Questa battaglia non porta certi colori politici, è il momento dell'unione, del confronto e della collaborazione. L'unico colore che vediamo è il nostro tricolore, la nostra bandiera. Dobbiamo farci forza e andare avanti. A tutti i ragazzi e i bambini chiedo un disegno, di colorare, di dipingere in queste giornate lunghe e di dipingere Castiglioni con sopra l'arcobaleno. Un giorno ci ritroveremo tutti, quando sarà finito, e confronteremo i vostri disegni. Nel frattempo metteteli fuori, fuori dalla porta, fuori dalla finestra, perché tutti li debbano vedere, perché c'è voglia e speranza e sicuramente, sicuramente c'è volontà di tornare fuori a correre tutti insieme. Vi auguro una buona serata e state tranquilli e sereni, perché tutti insieme ce la faremo.